Novara non molla mai! No, non molla mai, sono state brave anche oggi, con la giusta determinazione, nei momenti dobbiamo fare ancora qualcosa di più, nel senso quando siamo avanti di cercare di lasciarlo lì l'avversario, però sono felicissima di aver vinto questa bella partita con tutto questo pubblico e sicuramente ci ha aiutato anche loro. Cosa è successo nel primo set? Quello che dicevo prima, che comunque nel momento in cui abbassiamo un attimo la guardia dobbiamo essere sempre lì, eravamo avanti però dobbiamo stare lì per metterlo giù. Giovedì sera? Giovedì sera sarà un'altra bella battaglia, ci aspetterà Modena con il coltello tra i denti, un pubblico come questo, noi dovremo comunque pensare che siamo 0-0, è un'altra partita, quindi sarà una partita lunga e dura. L'emozione è per te giocare un'altra finale scudetta a questo livello? Ma guarda, quello che diceva le ragazze, arrivare fino a farsi una finale scudetta non è così semplice, quindi nel momento in cui ci siamo cerchiamo di essere aggressive e determinate. Io sono contentissima, ci credevo e adesso siamo qua e lottiamo.